non voglio farlo come scusa? mi stanno costringendo e non voglio farlo io non mi voglio rifiutare di fare questo video allora, io sono appena andato dalla festa di multiplayer e il figlio dell'umanità dice questo le persone vogliono solo una cosa sangue e merda quindi adesso lei si metta qui e ci dica sangue e merda su Pork & Geek sangue e merda tutto nasce da una mia... da un mio commento extra video dove non ero molto d'accordo con la classifica e poi mi hanno detto di dodo le altre camera io te lo diciamo top 10 vai vai allora top 10 iniziamo quindi il primo il decimo il decimo è Twilight Imperium la quarta edizione e qui mi salvo mi salvo ho giocato un turno quindi non posso commentare andata bene andata bene non lo puoi commentare? sicuro? vabbè un bel gioco guarda fammi rivedere poi mi mi sicuro si no è un bel gioco ok quindi al decimo posto ci può stare esatto come al decimo posto ci può stare un gioco che dura 12 ore più o meno però vabbè ci sta cioè great western trial ok questo secondo me è un gioco che meriterebbe un po' i piani più alti c'è un gioco bello anche qui non mi aggambio perché non ho posto su 200.000 giochi ci può stare io sto tranquillo perché so che c'è sopra allora questo dai ottavo posto shite ma io dico no se l'ho comprato sta qui c'ho il coso di legno ho comprato tutto io sento già ne pure gli fa cagare come scusa? si può dire? no non si può dire tu? tu? tu eri uno di quelli? cioè dai su ottavo e poi su sopra ci stanno altri titoli dai dai ma questo è quello il gioco lì con tutte quelle espansioni quel furto insomma guarda già io sento caldo come va bene quindi fino a 8 più o meno ci siamo no shite non è più su ok ok rispetto a qualcuno 7 c progetto Gaia una cosa sola tra 7 e 1 ci sta Terra Mystica? no come cazzo fai tu a copiare un gioco perché le cariche sono identiche e metterlo qui in alto ma tu vuoi mettere durante la telecamera ok io non vado avanti io non devo andare oltre io so perché ha la copertina più bella sicuramente no probabilmente perché perché ai tempi che era l'ambientazione era un po' triste di Terra Mystica e questa invece è figa spaziale capito? eh certo però sono le meccaniche quelle di Terra Mystica con due cose in due cose però 7 e Terra Mystica io non ho la possibilità di dove sia nooo nooo smettiamola smettiamola arrivata a 50 arrivata a 50 Terra Mystica va bene alla sesta posizione c'è Star Wars Rebellion che secondo me ci sta l'ho giocato è un bel gioco sesta posizione onesto quinta posizione Twilight Struggle Twilight Struggle è un gioco interessante è un gioco per due io non amo i giochi per due mettere un gioco per due lì però è bello cioè che ti dico è per proprio gusto personale eh va bene non mi puoi mettere in difficoltà no 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 nessuno ha detto non è che allora andiamo avanti a quattro ecco e qui c'è un gioco che io avrei messo su purizzato Terra Forming Master esatto primo io l'avrei messo primo perché è l'unico gioco che mi fa fare alle 5 di mattina quando ti attacca e sei a lavorare esatto c'è un motivo no c'è un motivo perché lo mettete qua perché questo ma poi io vorrei andare a vedere anche lo scorre perché poi ce lo scorre quando è lo scorre 8.24 scusa guardate un attimo sotto una domanda che poi mi dice Shite Shite 8.12 vabbè ok vabbè non commenta no non mi vai commenta no vai vediamo dai voglio sentiti su sopra allora terza posizione sul podio Through the Age A New Story of the Civilization allora tu lo metti al terzo posto per quale motivo io al terzo posto lo posso mettere perché ho la meccanica vita perché è un gioco completo perché vuoi che vuoi è il gioco per eccellenza ok è un turno e mezzo di lavoro però cioè come fai a metterlo al terzo posto ci compri un gioco paghi 80 euro se non lo so 90 non lo so raga io l'ho giocato non l'ho comprato però tu lo metti al terzo posto e ce lo giochi una volta all'anno e ti ci devi pigliare una giornata di ferie quindi questo 8 punto 8 punto 25 eh 25 quasi vicino a 20 andate a votare Terraforming Mars per favore dai per favore mettete gli quei mi sa che ci va 10 poi il secondo posto eh 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 Pandemic Legacy season 1 eh è qui è qui nooo non lo è ma perché io 8 punto guarda sto video se poi andrà a finire non lo mettete molto in giro allora partiamo cani allora io l'ho comprato l'ho giocato beh bello eh cioè ho giocato tutti i Pandemic belli mi piacciono tutti mi sono tenuto l'unico che è un po' più interessante ma 60 euro per giocare 12 partite e poi più o meno buttare il gioco nel cesso perché scusate ma più o meno è quello come fate a votarlo io sono un po' contro i Legacy ma come cazzo fate a mettere lo secondo a 8 punto sì forse 8 punto 49 come fate forse è quello il problema cioè cioè nel senso qual è il problema a secondo poco ci sono giochi migliori ragazzi cioè secondo secondo che sì effettivamente io sento anche che gente mi risponde a matù no hai mai giocato più di 12 volte un gioco io piglierei questi questi persone li spruzzerei e gli direi che Terraforming Mars sì e sta a 4 cazzo e probabilmente ci rigiocheremo un'altre 12 12 non lo so guarda mi posso girare e dirti che qui ce ne sono venuti a Bizelf quei shite che avete messo al settimo posto l'ho giocato 10 volte e più o meno sto lì e prendiamo i classi Legacy l'ho venduto prima che condivassi a fare le missioni che ci mettessi di piccetti e strappassi carte lascia a perdere non voglio spoilerare niente vabbè il primo posto ci sta sì sì quindi di Groom che è dal primo posto vediamo se lo troviamo qualcosa che può farti arrabbiare ah no scusa Terra Mystica non l'avevo visto sta all'undicesima posizione ecco 7x1,2,3,4 posizioni più avanti c'è il copio il copio del tipo i vostri migliori giochi che indietro tu sta un pezzo vabbè vai cerca allora il mio te lo devo dire il mio miglior gioco quello sta là però quello sta là rompe coglioni quello là dietro cioè un po' perché ci devi girare il dito mi chiedi dove sta alta tensione e ora scappotto tutto Power Grid Power Grid 36 con 7.80 Pandemic Legacy secondo 12 partite alta tensione quanti partite quello mi fa parlare di Board Game Geek no ma siete consapevoli che questa è la media delle votazioni del popolo cioè questa è una votazione democratica a me mi fate commentare le votazioni democratiche del popolo perché 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 a me mi mettete in discussione in questo modo perché noi siamo somagisti il popolo ha sempre ragione io non sono d'accordo ma il popolo però secondo lui non ha sempre ragione perlomeno per alcuni titoli tipo per la metà la metà la metà e poi perché alcuni non li conosco perché potrei anche questioni di più Stories 68 e ci può stare e ci può stare perché Luca ha un sacco di soldi ha i suoi difetti Pandemic se Pandemic Legacy è così Pandemic è così basso quindi 74 perché perché ti mettono la sorpresa cioè non mi fate commentare quella è la psichia umana tu metti il box in music oh figo fammi vedere il gioco finché non li apro e invece lo cervellarti per cercare di riuscire a uscire a vincere tutti i cose no e andate a vedere il campionato mondiale di Pandemic e vede che quelli in 3 secondi percivano la mossa per sì infatti dai ragazzi questi sono maggiormente sono gli americani no? anche italiani ah beh non capisco eh no mondiali 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 è Petschork Petschork a 62 voi sovrappaccemmi 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 no raga non mi fatevi queste cose cioè ma come posso guardare questa cosa ma guardate alla classifica momo voi direte e so giochi diversi so due categorie diverse ho capito uno è bello per una cosa ma bello per un'altra Petschork è bello bello di Petschork me lo avete spiegato va bene va bene lasciamo per Azul Azul che tra un po' verrà sovrappaccemmi dal fratello secondo me il fratello di sinistra tra l'altro Puerto Rico al 20 però Puerto Rico è dal 2012 che prende 2000 no 2002 che prende voti ragazzi a cazzo questa cosa io non voglio commentare altro perché voi siete mi avete messo qui davanti solo per mettermi in difficoltà no 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 è solo per far capire agli altri cosa ne pensiamo noi del popolo delle votazioni più che altro sono giuste sono giuste lasciamo la merda sono giuste sono giuste sono giuste sì allora raga la democrazia è una delle cose più importanti secondo me su questo non c'è dubbio e allora quindi voto media finito scusa scusate l'ho fatto una cazzata un ticcola cazzata ci manca Gianluca ma Gianluca è a male in questo momento e questa cosa l'abbiamo registrato una settimana dopo che noi registriamo i video convinti di aver fatto tutto a fare via meditare e ci mancano i saluti che cosa ci manca i saluti se il video vi è piaciuto spolliciate insultatemi perché mi rendo conto che mi sono molto 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 era un video l'abbiamo detto anche all'inizio con gli arti si ride si scherza si fanno tante battute mentre si gioca al tavolo e allora tra di noi abbiamo deciso perché non farci un video probabilmente ce ne sanno altri di questo tipo però diciamoci la verità scommetto che anche voi che ci state guardando ogni tanto vi dite ma la classifica board game geeks qui secondo me anche voi l'avete fatto di commentare uno o due giochi e anzi è molto personale quindi si gioca pure voi quello che pensate esatto e niente se il video vi è piaciuto ne potremo fare altri più o meno dello stesso tipo parlando di altre cose giochi di ruolo videogiochi o commentare altre parti della classifica perché noi poi siamo andati a vedere fuori camera i migliori family game o i migliori dungeon card game esatto e li possiamo commentare detto questo alla prossima alla prossima ciao ciao ciao